ciao a tutti ragazzi siamo oggi qua con un nuovo unboxing cioè un primo unboxing mio diciamo e oggi cosa faremo unboxing faremo prima di tutto le ventole quindi puttiamoci giù questa è una ventola di ventola di mattan da 80 per 80 mi sembra 80 per 80 per 25 una cosa che non lo so semplicemente apriamolo per questo si può aprire anche senza cortello ne ho comprati due di questi uno l'ho già aperto l'altro poi cosa ci dà dentro una ventola da 80 millimetri sono piccolini non so perché ho comprato da 80 un manuale d'istruzione cacchio me frega ok e dei sviti per vitarlo fine ok ok ne ho comprati due come vi abbiamo detto due sono due ok ora mettiamo da parte sti ventole ok ora prendiamo l'altra ventola questa è una ventola led nella stilberston è di colore blu quindi apriamo con il nostro magnifio cortello basta che non mi tagli la mano forse ma fa lo fratello mi ha preso un cortello che non cortella nemmeno mi vedrete nella mia opera di tagliare un pezzottino di scotch sembra che sto ammazzando qualcuno come vedete basta che non taglio la mano io e basta che non taglio i figli anche ok che fegno ragazzi comunque ho qua mio fratello che mi sta aiutando invece dynamic che ha fatto l'unboxing con i piedi facendo con le mani poi come vedete qua è una ventola 120 per 120 per 25 di altezza nel senso è una ventola led come vedete figo led tutto led di colore blu come vi ho detto equipato citati da il convertitore da quelli connettori nella scheda madre a molex questo è un produttore molex che potete connettere direttamente con il vostro alimentatore ok quindi la ventola mettiamo da parte e ora viene grosso ragazzi la scheda video che aspettavo da un anno cioè tre mesi e si un mese volevo dire eccovi qua la scheda video giravi un po' così vi fai vedere un po' come avete visto è un sapphire hd 7790 c'è tutte ste roba vabbè se volete leggere potete trovare anche su internet è overclockato la edizione oc 2 gigabyte di r5 è un ha la tecnologia md e te a infiniti dove potete collegare qui monitor md e te a infiniti come sempre ok cazzo ok accortelliamo anche questo che modo brusco devo aprire una cosa ok questo è più facile con il logo sapphire ovviamente è già da sapphire apriamo come sempre un dentro una scatola c'è un'altra scatola apriamo sta scatola ecco cosa abbiamo in manuale manuale con il tag della sapphire se potete vedere questo potete attaccare davanti al computer cd driver e c'è qui c'è una cosa della c'è scritto dove è stato fatto una cazzo del genere che cazzo mi frega via manuale della sapphire istruzione quick installation guide questo che cacchio è qui è la carta della membership sapphire che al voi non me ne frega perché mi frega a me perché c'è il codice non posso farvi vedere di dietro ok qui c'è ok qui c'è il capo da molex a 6 pin perché questi scatabidi qui andano anche la corrente da parte un aumentatore c'è il connettore dvi a vg a chi usa vg anche ragazzi ecco qua il pezzo grosso che cosa dovrei fare ok dovrei stare attento a tirarlo fuori ecco il nostro scatabio potete vedere che è una gigantesca roba madonna quanto è grosso non so se nemmeno posso entra farlo entrare bene tutto però a me piace questa cosa della radio permette il backplate così non possiamo danneggiare le parti questo scheda video vi dico la caratteristica come ho detto è ddr5 ddr5 e 2 gigabyte ha una potenza di 6400 megaes di ram nel senso quanto va sono veloci come una ventola coso cooler qui a due porte un dvi mi sembra out in due normale un visual porte un hdmi e quindi sempre ci sono tutti i cooler c'è la cosa 2 bronze pipe è una cosa così non posso dire niente questa è a 16 mi sembra 16 pin mpci x3 e quindi ragazzi da qua mi è tutto vedete per bene la scheda video parte sopra ai dati quindi da me è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo unboxing chiudi